Buonasera a tutti, questa sera faccio questo breve video perché cercherò di far passare un concetto abbastanza importante, anzi in tanti casi è fondamentale. Il concetto è questo, che quando si sceglie uno strumento di comunicazione per punto vendito, per una fiera, per qualche evento, bisogna puntare e quindi scegliere un articolo tecnologicamente avanzato, dove c'è della tecnologia, dove c'è una progettazione vera e propria. Questo per far risparmiare tempo e danaro, anche spendendo magari per lo stesso articolo qualche lire in più. Ma vi faccio un esempio, in questa scatola, in questo scatolone da spedizione, ci sono dentro 30 totem pubblicitari, voi direte 30 totem lì dentro, sì 30 totem pubblicitari, forma ovale, misura 50, alto 190. Ma state a vedere. In ballo singolo in busta di nylon, completamente automontanti, 4 pieghe di cordonatura per 5 pannelli, senza punti di colla, quindi la colla non si cristallizza e non rende il vostro totem dopo un anno o due tutto increspato. guardate che bello, guardate, guardate, all'interno, guardate, quando intendo tecnologia, tecnologia appunto come in questo caso, con questi articoli bellissimi brevettati. ne apro un altro per far vedere la velocità con cui si possono aprire e i soldi che si possono risparmiare rispetto a un altro totem che sì costa meno, ma un altro totem che viene spedito alto 190 ha delle spese di trasporto altissime. Quindi scegliete la tecnologia. Grazie.